allora ciao a tutti penso che siamo in diretta oggi ho qui anche un'amica che caramente mi leggerà le domande nel caso in cui e mi auguro tanto ci saranno domande allora l'argomento di oggi aspettiamo mentre aspetto mentre aspettiamo qualche minuto comincio già a introdurre l'argomento della giornata poi chi vuole può scrivere già per dire da subito domande esprimere dubbi eccetera ben volentieri sono qua e pronta a rispondere allora l'altra volta abbiamo introdotto la psicologia transpersonale e ecco salveremo mi ricordo di te mi ricordo ciao benvenuto ben trovato l'altra volta abbiamo approfittato per fare un'introduzione generale riguardo la psicologia transpersonale e la costellazione dei 12 archetipi e oggi vorrei cominciare a parlare dei primi due intanto metto anche un pochino gli occhiali jessica ciao jessica ok sono contenta dai allora qualcuno qualcuno già c'è allora oggi allora mi piacerà mi piace tantissimo interagire con voi ciao jessica e ciao giovanni quindi sentitevi veramente ciao brigitta sto anche intravedendo sofia monica non monica altissimo che che conosco virtualmente ciao a tutti magari non citerò ognuno di voi anche perché non vedo molto bene e vorrei stare anche un po ovviamente al pezzo e dell'argomento sull'argomento proposto oggi allora cominceremo la costellazione a conoscere ciao arianna ciao arianna la costellazione dei 12 archetipi parlando dei primi due allora i primi due archetipi l'innocente e l'orfano sono archetipi solitamente ve lo dicono per quanto riguarda la costellazione dei 12 costellazione di origine junghiana descritta da carol pierson mettendo insieme il lavoro del mito psicologo dell'esperto di tradizioni religiose e antropologiche comparate jose scampel ecco questa costellazione che presenta queste 12 forze che vivono dentro ciascuno di noi di solito è molto ambita per quanto riguarda gli archetipi che troveremo più avanti cioè quelli fighi quelli che hanno a che fare con l'attivazione e il risveglio del mago del saggio del re della regina avete presente mentre i primi due quelli che reggono praticamente tutto il viaggio spesso sono considerati un pochino gli archetipi inferiori della costellazione niente di più sbagliato perché in realtà questi primi due archetipi rappresentano veramente la costituzione la creazione del nostro io cioè del nostro senso di identità che ci permette di poi poter sviluppare anche tutti gli archetipi successivi e soprattutto una vita allineata in armonia insomma con quello che è il progetto il nostro progetto originario dell'anima allora guardo un po' qualche scritta ciao Giovanni ciao Giovanni allora non so se qualcuno di voi comincia con una domanda conosce i dodici archetipi o ha delle fantasie relative a questi primi due cioè all'innocente e all'orfano mi piacerebbe che che interagiste proprio anche scrivendo anche eventualmente non solo domande ma anche pensieri allora l'innocente sapete chi è è la nostra parte più capace di provare amore incondizionato fiducia entusiasmo nella vita e anche passione verso che sia un partner in una coppia che sia un lavoro che sia un progetto nuovo che ne so un trasferimento di vita l'energia dell'innocente è quell'energia che contattiamo tutte le volte che ricordando che un mondo migliore è possibile anzi esiste da qualche parte seguiamo una scia di fiducia di ottimismo dentro di noi perché questo nome perché parliamo di archetipo dell'innocente se facciamo tutti caso a quello che una certa religione ci ha voluto vendere è un pochino il il mito che sarà quello vedremo del secondo archetipo dell'orfano cioè il mito della colpa del tradimento del della del difetto insomma no di fabbrica in realtà questa lettura la cosa bellissima no di questa lettura trasversale di tutte le mitologie comparate è questa cioè è il fatto che noi nasciamo assolutamente perfetti noi nasciamo assolutamente puri degni di essere amati e degni di amore questo ce lo raccontano non soltanto le mitologie di ogni tempo ma ce lo racconta oggi anche il cinema ce lo racconta anche la televisione ho scelto ora è all'istante di chiamare questo incontro alla conquista della valle incantata perché non so se l'avete visto c'è la disney che ha relativamente di recente fatto uscire un cartone bellissimo che racconta la storia di un piccolo dinosauro che insieme alla sua mamma esce da una valle dove c'era un po di scarsità di cibo e si mette in viaggio perché per andare alla alla conquista di una valle incantata cioè di una valle molto più florida e succede che durante il viaggio la mamma che rappresenta la sicurezza che rappresenta che rappresenta la protezione muore e il piccolo dinosauro che avrebbe tutti i motivi per arrendersi cioè per tornare indietro nel conosciuto sceglie di andare avanti nonostante tutto nonostante si fosse sentito assolutamente no abbandonato questo è il vissuto emotivo dell'archetipo dell'innocente mi sento emotivamente abbandonato e questo piccolo dinosauro continua si vede nel cartone molto bellino molto carino se non l'avete visto guardatelo continua il suo viaggio fino a che non trova davvero la valle incantata e qual è quindi il messaggio no che in questo caso ci vuol dare la disney che credere cioè che avere fede è sempre conveniente pensiamoci perché se io se io non ho fede è qualcosa è quello in cui che io mi immagino non esiste pensiamo alla vita dopo la morte pazienza non ci sarò più ma se invece se invece in realtà io ho fede potrò essere sostenuta da una forza infinitamente più grande già durante questa vita allora guardo un po dice sofia morrone li conosco per quanto riguarda lo shadow work ma non li ho approfonditi nello specifico ok il lavoro dell'ombra vuoi dire è sofia li conosci non so con chi lo hai fatto e comunque sia approfitto anzi guarda di questo tuo intervento per dire che ognuna di queste 12 forze ognuna di questi 12 archetipi ovviamente ha un lato la famosa scommessa ciao enrico non ti avevo visto di pascal assolutamente dicevo ogni archetipo ha un lato di luce e ha un lato di ombra e chiaramente l'ombra che di solito tutti noi detestiamo in realtà cosa rappresenta rappresenta la nostra possibilità di crescere ancora di più come esseri luminosi sì da sola ci provo ma coraggiosa sofia coraggiosa è interessante è quello che stai dicendo ricordiamocelo tu dici da sola ci provo allora io ho pensato e lo sto anche un pochino improvvisando in questo momento anziché descrivere separatamente l'innocente e l'orfano mi fa piacere parlarne insieme accorpandoli perché in realtà i 12 archetipi funzionano a coppie che rappresentano tutti gli opposti di un certo atteggiamento e come ci ha insegnato jung come si fa a mettere d'accordo gli opposti le coppie di opposti jung parlava di matrimonio alchemico si devono far incontrare conoscere e integrare per questo matrimonio alchemico quindi parliamo insieme dell'innocente e dell'ombra e scusate vabbè dell'ombra della luce e dell'orfano questa coppia allora è molto importante e dicevo secondo me è veramente alla base della costellazione perché se noi conosciamo integriamo queste due forze diventiamo capaci di sviluppare una facoltà delle più alte rispetto alle qualità essenziali dell'anima e cioè parlo della scelta la capacità di scegliere che cosa è meglio per noi la facoltà del discernimento poi no di cui sentiamo spesso parlare ecco la possibilità di scelta di scegliere deriva proprio come frutto è il figlio nato dal matrimonio alchemico tra innocente e orfano e ora ne parlo insieme in modo combinato sapete perché perché l'innocente cioè la nostra parte più pura più entusiasta quella che vive racconta il mito cristiano nel paradiso terrestre tende a affidarsi in modo incondizionato dell'autorità nel caso di adam e deva tende a affidarsi in modo incondizionato del dio no che gestiva questo paradiso e che cosa succede succede che questa fiducia è importante notarlo fin da subito questa fiducia dell'innocente originario è incondizionata anche perché in un certo senso è obbligatoria il bambino piccolo appena nato non può che fidarsi della sua mamma perché da solo come fa come farebbe no a garantire la sua sopravvivenza a garantire la sua sicurezza non riuscirebbe per cui il gioco della fiducia incondizionata iniziale dell'innocente è una fiducia di default cioè facile ok e questo il viaggio che consiste no nello sviluppo del compito evolutivo dell'innocente dell'orfano ha a che fare con una volta usciti dall'eden per rimanere alla metafora no la descrizione della metafora è tornare dentro l'eden in che modo ricostruendoselo però con non non più con un'autorità della quale dovevamo fidarsi e ci potevamo ci dovevamo e non potevamo che fidarci ma con le nostre forze mettendoci gli uni con gli altri in cooperazione interdipendente e assumendo uno sguardo realistico rispetto alla realtà allora l'innocente si fida di tutti a prescindere guardate l'innocente è quella parte che che contattiamo con cui siamo connessi ogni volta che crediamo ogni volta che rimaniamo il nostro comportamento il nostro compagno è l'uomo giusto per noi è l'uomo della nostra vita è il nostro grande amore e magari ci picchia da anni quindi questo ovviamente è per accentuare no cadendo anche a contattare come prima diceva sofia un po l'ombra dell'innocente che ovviamente fidandosi di tutti ha proprio come rischio come scoglio come ombra quello che si chiama la negazione per la psicologia allora io ok l'innocente è quella parte mia che mi fa innamorare anche a 80 anni e mi fa innamorare con lo stesso entusiasmo di quando ero piccolina di quando ero giovane di quando avevo vent'anni ok perché è quella forza lì però questo non deve e non può scadere in un assolutismo quello che appunto ci fa rimanere facevo l'esempio della coppia ma potremmo fare anche altri tipi di esempi parlando di lavoro no ci fa rimanere aggrappati a quel lavoro perché così lo ha voluto la mia famiglia quindi ciao rosi ciao rosi allora perché così ha voluto la mia famiglia ok allora e dicevo questa questo questo archetipo è un archetipo che è assolutamente incline a provare fiducia incondizionata verso tutti e verso tutte a costo della negazione questa è la grande ombra dell'innocente per renderci conto se noi viviamo e se noi abbiamo attivo no dentro di questo questo archetipo possiamo pensare alla a quanto ci riesce facile lasciarci andare magari noi che siamo grandi no a nuove esperienze professionali a nuove esperienze affettive oppure quanto in realtà soprassediamo in situazioni che non sono del tutto per noi fonte no di di gioia ma ciò nonostante per qualche motivo che non ci riusciamo a spiegare rimaniamo capite rimaniamo appunto incollati mentre l'innocente fra l'altro aspetta perché ho visto ok mentre l'innocente tende dicevo ad avere questa fiducia incondizionata l'orfano è quell'archetipo che sperimenta la caduta cioè che sperimenta la delusione che sperimenta la cacciata dall'eden in in altre parole stando proprio al nostro mito cristiano la parte l'orfano è il bambino che piange nella culla sapendo che non arriverà nessuno perché magari non so se vi è successo ma qualche decennio fa i pediatri erano convinti che se i bambini piangevano nella culla andassero lasciati piangere perché tanto poi avrebbero smesso andare ad accudirli ogni volta che loro avessero pianto avrebbe significato creare degli adulti un po' viziati e abituati ad avere capite soccorso in ogni istante quindi incapaci poi di crescere in autonomia in realtà poi da un punto di vista di comportamento il bambino in questo senso effettivamente smette di piangere però a un caro a un carissimo prezzo cioè al prezzo di veramente sedimentare cristallizzare una ferita interiore di profonda solitudine che poi si trasforma nel caso dell'archetipo dell'orfano in una sorta di disincanto di sfiducia all'opposto dell'innocente no di cinismo che lo possiamo immaginare tiene lontano ci tiene lontani la persona che vibra molto no con con questa ombra dell'orfano ovviamente si terrà lontani lontana da relazioni e addirittura pensando ma no gli uomini sono tutti come sappiamo eccetera eccetera arianna chiede barbara dentro di noi ci sono tutti gli archetipi ma quanti possono essere più attivati in un dato momento quanti intendi di numero arianna allora nel frattempo se nel frattempo che mi rispondi ti posso già anticipare una cosa allora tutti gli archetipi noi abbiamo tutti e dotici gli archetipi non solo questo numero 12 un numero magico è tipico di questa mappa però in realtà ci sono anche altre costellazioni ne parlavo l'altra volta no potrebbero esserci possono esserci gli archetipi della mitologia greca della tradizione afro brasiliana dello stesso mito cristiano che non a caso di prendere il numero 12 nel senso sono tante sono tante mappe come di tante città questa è una questa no dicevo deriva dal tutto lo studio di campel di jung sistematizzato dalla dalla pearson quindi dovremmo avere tutti e 12 gli archetipi attivi e dovremmo ragazzi essere in grado di rispondere alla vita con l'archetipo più adatto ok nel momento che stiamo al momento che stiamo vivendo con estrema fluidità ok sì mi rispondi arianna certo sì lo immaginavo allora se parli di quanti possono essere attivati anche qui senti ti dico non c'è un numero definito solitamente solitamente per quello che io ho visto per quello che anche per le conversazioni che che ho occasionalmente con carol pearson di solito anche qui viene fuori un'immagine no una forma geometrica sacra sono tre cioè solitamente è uno o tre o quattro è in realtà comunque è uno che in scena che viene stimolato maggiormente che è maggiormente stimolato nel momento presente poi c'è proprio come figura alla base del triangolo un alleato un angelo e un demone cioè un alleato e un drago stando al linguaggio mitologico il drago che ci sfida ci sfida cioè ci mette bastoni fra le ruote in modo tale che possiamo per la forza per il gioco no tra le forze riuscire a sviluppare maggiormente il dono cioè la qualità collegata all'archetipo e quindi crescere e quindi aumentare in consapevolezza nel caso dell'innocente e dell'orfano prima dicevo parlavo della della qualità del discernimento cioè della capacità di scegliere come loro principale dono e questo è vero ce neanche un altro ce ne sono due principalmente cioè c'è il senso il recupero del senso di sicurezza questo perché perché l'innocente ovviamente no vive in stato fusionale prima con la madre nella pancia poi i primi anni di vita ma poi anche con un fidanzato sono le coppie costantemente attaccate queste sono le coppie che vibrano con l'archetipo dell'innocente e che faticano a dividersi e a in realtà entrare nel mondo unendosi scambiando con gli altri in modo tale da capite diffondere la bellezza del loro amore anche all'esterno cioè dandola questo è il vero senso è fra l'altro di una bella coppia è una è quello proprio di espandere la ricchezza e tutta la se volete anche se vogliamo l'energia insomma e la bellezza che può esserci in in una relazione andando ad arricchire il mondo quindi ad arricchire anche le altre relazioni e quindi insomma sono queste tre figure ti ho risposto di solito è il triangolo arianna capito è un archetipo stimolato c'è anche la possibilità di farsi è la carta della costellazione archetipica che attraverso i numeri va a vedere quale è nel momento di vita x che stiamo vivendo l'archetipo solitamente cioè scusate la ripetizione archetipicamente attivo o attivato ok perché se vi ricordate no ognuno di questi 12 archetipi corrisponde a precise fasi di vita però poi il gioco sta nel conoscerli nell'attivarli tutti e nell'integrarli in modo tale da poter rispondere alla vita con l'archetipo più giusto nel momento presente questo un po è l'esperienza del flow cioè l'esperienza del flusso no di cui parlano anche le tradizioni orientali ma non solo tante tradizioni e fate pure scrivete pure altre intanto guardo ok spero di averti risposto arianna allora l'ombra prima parlavo dell'ombra dell'innocente che è quella di negare proprio per la sua difficoltà no ad accettare un mondo che non sia degno di fiducia incondizionata la sua ombra è quella di negare che magari la mamma non è così perfetta o anche il fidanzato il marito non è perfetto ok l'ombra dell'orfano non è è diversa non è quella della negazione ma è quella della disperazione vedete come si procede per per opposti no perché mentre pur di mantenere pur di mantenersi attaccato a questa fiducia incondizionata l'innocente nega mentre l'orfano sprofonda nella ferita cioè nella delusione nell'abbandono e quindi come ombra e come anche sfida evolutiva è proprio il superamento del senso di disperazione e di cinismo che tutti noi proviamo quando veniamo in contatto con questa forza archetipica e una cosa importantissima che ci tengo a dire è che è compito dell'orfano è compito di questo archetipo deluderci nel senso la delusione il tradimento ok la perdita che sperimenta l'orfano e quindi la nostra parte orfana interiore non è una maledizione divina anzi è quello che a noi serve per poterci confrontare con quello che è appunto il compito evolutivo di questo archetipo e la conquista del suo dono del suo elisir che è la capacità di stare sulle proprie gambe quindi è la conquista dell'autonomia non più però come succedeva all'innocente di default cioè perché così è non poter non potendo essere in modo diverso ma per scelta cioè mentre l'innocente non si fida di tutti e l'orfano non si fida di nessuno l'integrazione fra questi due archetipi ci fa finalmente sperimentare quella condizione essenziale per poter vivere serenamente che è la capacità di scegliere cioè di leggere la realtà di recuperare la chiara visione di cui parla la mistica orientale e capire comprendere istante dopo istante di chi fidarsi e di chi no quando andare avanti quando chiudere quando capite quindi in modo molto elastico molto molto fluente scusate che vede ma quanti può sia lo stesso negli archetipi dell'idea della bollen sì 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 assolutamente è proprio così e certo le carte poi archetipiche sono hanno tante caratteristiche comuni per cui anche quelle della bollen assolutamente rappresentano rappresentano queste stesse dinamiche ancestrali che vi ricordate l'esempio l'avevo fatto l'altra volta no che ci sovrastano perché sono forse immensamente più grandi di noi ma che in realtà ci vibrano dentro ci nutrono e condizionano assolutamente la nostra esistenza determinano la nostra esistenza mi viene in mente avete presente per parlare un po' di di attualità anche no di cose che stiamo vivendo la cura al plasma di dedonno la cura al plasma di dedonno rispetto al vaccino ok proposto da gate da chi da chi sappiamo noi è in realtà rivela quanto a livello collettivo noi siamo chiamati in questo momento a crescere come orfanità ripeto collettiva sapete perché perché è una cura in realtà è una cura che dipende da noi nel senso che non è il grande miliardario o la grande istituzione tipo l'oms che ce la che ce la dà no ce la dà e quindi ci fornisce come una mamma di potere ok la soluzione ma arriva veramente da un'interazione fra noi e da una salvezza trovata in prima persona da noi il plasma sappiamo che è un prodotto della è un prodotto di un essere umano che aiuta un altro essere umano forse mi spiego ed è incredibile vedere come in questa situazione precisa si siano stiano combattendo concedetemi il termine in prima linea delle dei dei tipi di salvezze vecchi antichi il vaccino no stabilito dall'oms o da chi per lei e tipi invece di soluzioni assolutamente attuali e in linea con un orfano evoluto che è quello della cura cioè è quello di noi che riusciamo a di noi come genere umano ecco ad aiutarci fra simili aspettate ok no mi sembrava scusate di aver visto di aver letto qualcosa per cui è interessante anche di questi archetipi una lettura collettiva una lettura che non si fermi anche alla visione individuale che ci riguarda che riguarda ogni essere ogni essere umano nel suo nella sua sfera intima ma anche a livello collettivo questa è una cosa è un è una verità molto importante l'unione l'unione poi di innocente di dell'innocente dell'orfano porta alla creazione del bambino divino allora per la nostra tradizione mistica non so se avete sentito mistica scusate religiosa non so se avete mai sentito parlare di bambino divino cioè dell'archetipo del bambino divino è quello nato dal matrimonio alchemico uso linguaggio junghiano tra l'innocente e l'orfano il bambino divino per noi ovviamente è il bambino Gesù cioè è il natale è proprio rappresentato dalla festa del natale se ci facciamo caso Gesù bambino è puro è simbolo di purezza perché è innocente perché è venuto al mondo senza colpe però è anche orfano perché perché comunque è in un certo senso è umiliato cioè nasce in modo illegittimo sappiamo la storia di Giuseppe dell'angelo quindi nasce in modo illegittimo e nasce addirittura anche in una stalla quindi in un ambiente tutt'altro che è confortevole ed è destinato al sacrificio quindi il bambino il bambino divino il famoso Gesù bambino integra armonizza e ci racconta è riuscendo anche a svegliarci queste qualità della nostra purezza originaria rappresentata dall'innocenza dall'agnello dall'agnello e anche dalla nostra orfanità perché tutti siamo orfani ovviamente tutti siamo orfani perché in misura maggiore o minore tutti abbiamo sperimentato delusioni perché nascere in questo mondo delle forme è un'esperienza che inevitabilmente ci farà sperimentare delusione senso di perdita e in questo senso quindi tutti siamo orfani anche perché semplicemente nasciamo a nostra volta da genitori che hanno vissuto questa ferita no della della caduta della del tradimento ecco e infatti non a caso spesso parlando con la Pearson lei mi dice siamo molto possiamo ritenerci molto molto fortunati se nasciamo figli di genitori che hanno riconosciuto questa loro ferita e hanno quantomeno cominciato il processo di guarigione non importa che lo abbiano magari concluso no con successo ma già che lo abbiano cominciato per quanto riguarda un altro punto importante che riguarda che ha a che fare con l'orfano e che ha a che fare con il suo compito evolutivo è quello di recuperare lo sguardo chiaro cioè realistico sulla realtà l'innocente nega che il proprio compagno sia violento anche se magari mi vecchia tutti i giorni l'orfano può rimanere anzi inizialmente rimane disperato e con un grandissimo vissuto no di impotenza l'orfanità l'orfano lo contattiamo ogni volta che ci sentiamo impotenti davanti a un mondo stile oppure impotenti dentro una relazione che non soddisfa le nostre la nostra immagine ideale vero è che queste due forze così lontane fra di loro ci possono portare a recuperare una chiara visione di quello che è venendo a patti istante per istante con quello che è il dato reale una volta frequentavo una terapeuta che mi diceva sai barbara la terapia più potente che c'è si chiama realtà e spesso la realtà l'innocente la nostra parte innocente si ostina a non vedere la realtà proprio perché è assolutamente in contatto in connessione in risonanza con la memoria del paradiso perduto e fatica tanto fatica tanto ad accettare che invece nel mondo ci siano che ne so uomini capaci di stare con tante donne contemporaneamente senza il minimo rimorso senza la minima come dire connessione affettiva al me con un speciale no con una di loro ma magari si appunto divide si frammenta fra più relazioni e la nostra parte innocente può avere tanta tanta fatica no ad accettare questa cosa e oscilla solitamente oscilla fra una un grande senso di impotenza e di disperazione provato dentro di sé tra una grande rabbia no proiettata ovviamente quindi all'esterno in questo caso no su questa persona e il senso di stordimento che nasce dal non saper come come stare in questa situazione come uscirne come venirne fuori e il gioco può sembrare molto duro però la danza fra come per tutti gli archetipi comunque in modo particolare fra l'innocente e l'orfano consiste nel ripetere le esperienze se volete anche devastanti o deludenti finché piano piano non accorciamo perché solitamente la danza fra innocente orfano è questa no è il nostro oscillare costante fra momenti in cui ci fidiamo di tutti di tutto che ne so del maestro spirituale del fidanzato dell'amico del collega in modo incondizionato poi sperimentiamo la caduta quindi non non ci fidiamo più elaboriamo elaboriamo questa ferita e quindi torniamo a fidarci in modo incondizionato per poi ricadere rielaborare rifidarci ricadere rilaborare fidarci questo è quello che la psicologia avrete sentito no parlare di equazione a ripetere allora ci sono le persone che in effetti sperimentano spesso la stessa ferita la stessa situazione che ne so con un uomo sposato che mi promette tante cose ma che poi non le realizza non non tiene fede situazione che io sarò portata a ripetere varie volte finché accorcio proprio le distanze no sempre di più tra fidarmi di quanto mi dice quest'uomo e non fidarmi arrabbiandomi ecco accorcio fino a che valuto riesco a valutare istante per istante se è il caso di fidarmi di quella persona e di quella situazione oppure no qui poi c'è una cosa importante che ha a che fare con l'orfano e cioè la sua capacità e la sua disponibilità a chiedere aiuto vediamo Enrico ho visto che chiede qualcosa proprio per l'innocente deve accettare di rimanere orfano per comprendere la realtà del mondo e la verità delle relazioni ne sto facendo esperienza ecco grazie Enrico che condividi con noi anche la tua esperienza sì e questo guarda mi fai introdurre ancora meglio quello che stavo per dire accettare proprio di rimanere cioè accettare la perdita ok accettare la perdita è più attento Enrico accettare la perdita è più il compito dell'innocente di quella capito della parte nostra entusiasta ottimista capace di amore incondizionato in realtà la nostra l'archetipo dell'orfano accetta addirittura subisce la perdita la subisce cosa voglio dire subisce vuol dire che è travolto da un'onda di disperazione incredibile cioè se mi spiego e quindi non è che non accetta 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 e ne è devastato ok quindi in realtà questa devastazione che sperimenta l'orfano è funzionale alla sua crescita perché soltanto se io sperimento una delusione una perdita un capito un tradimento anche di una mia visione originaria tipo rimarrò per tutta la vita sposato a quella persona sposata a quella persona è funzionale l'orfano ci vuol stimolare purtroppo in un modo un po' cruento e doloroso lo so è per questo che è un po' antipatico come archetipo ma secondo me è una bomba è una di quelle più forti perché ci porta attraverso la la sofferenza della proprio della perdita no se fosse ripeto anche del nostro ideale ci ci prepara cioè ci pulisce ci pulisce il campo in che senso nel senso che se ci ricordiamo quello che ho detto prima no l'innocente vive una condizione idilliaca e ideale però un po' scontata e così facendo non ha possibilità di crescere arriva invece la cacciata dall'eden per dire oppure tante favole orientali che parlano di buddha che perdono la capacità di percepire la chiara visione e quindi entrano scivolano sprofondano in maya il mondo delle illusioni qui apro anche una sottoparentesi ci sono anche tantissimi miti pensate delle delle popolazioni dogon o dogon anzi che sono popolazioni nord africane che rispecchiano i racconti dei veda no i veda qualcuno di voi avrà sentito no questi testi sacri indiani dove addirittura si si racconta che la cacciata dall'eden ovviamente non è l'espressione non è questa l'espressione utilizzata solitamente è proprio è la caduta è la caduta la caduta dal seggiolone dico io il linguaggio psicologico ma è la caduta proprio degli dèi no dall'olimpo dal dal cielo ecco queste popolazioni dogon e i veda raccontano che la caduta in realtà non è un evento che accade una volta ma è un evento che accade costantemente ogni singolo istante in cui viviamo perché deriva dalla condizione o meglio dal condizionamento che nel quale noi siamo come dire intrappolati a causa del nostro vivere nella dimensione spazio temporale che non è la dimensione unitaria quindi originale del famoso no sempre stando in termini archetipici del dell'uovo cosmico che rappresenta proprio l'unità ricomposta l'unità originale quindi qui il gioco secondo me questa danza no fra l'innocenza e l'orfanità è fondamentale perché io sono d'accordo con questa lettura poi particolare della dei veda proposta dai veda proposta da queste popolazioni africane ogni istante noi siamo tenuti a ricomporre cioè a trasformare in reale la nostra visione ideale non so se mi spiego è questo il compito di queste due archetipi cioè l'innocente trascina qui tirandolo giù per la sottana il la visione del paradiso ok l'orfano sperimi è il primo cioè potremmo dire che è il primo archetipo che entra in contatto con la con la realtà dei fatti che qui è tutt'altro che come dire esente no da sofferenza e quindi da delusioni da e da disperazione perché c'è da fare conti anche con questo e c'è da far da fare conti con questo non solo quando qualcun altro ci ferisce ci delude ma quando il quella è la prova più spietata quando siamo noi stessi delusi da un da una da una da una certa presa no di di realtà da una certa presa di coscienza che noi stessi per primi non corrispondiamo a questo nostro ideale perfetto amorevole incontaminato puro sempre e comunque infatti l'orfano quando comincia ad acquistare un po consapevolezza di sé come prima reazione anche quella di un forte di vivere no di un vissuto molto intenso di colpa e che il mito rappresenta no con con la colpa con il peccato originale che ripeto non è la nostra purezza innocente che è quella dell'anima immacolata ma è uno step già successivo che è quello che corrisponde al nostro vissuto emotivo di quando ci accorgiamo che non solo gli altri ma anche noi siamo difettati e questi due archetipi insieme piano piano ci portano ecco perché è fondamentale no il loro insegnamento ci insegnano addirittura piano a livello più evoluto anche a fare dei nostri più grandi difetti i nostri punti di forza più preziosi questo no paradossalmente accade questo con la con proprio l'incontro di questi due archetipi che ovviamente si devono incontrare si devono conoscere e riconoscere e lo possono fare in un primo momento chiedendo aiuto per esempio l'orfano ha difficoltà a chiedere aiuto e sapete perché è naturale perché la sua missione cioè il suo compito evolutivo è quello di ricostruire il paradiso perduto no di riscoprire la famosa valle incantata che dicevo prima con le sue forze con le sue sole forze ecco perché è molto frequente che questa parte interiore che corrisponde all'orfano e che abbiamo tutti dentro tentenni resista spesso a chiedere aiuto che sia a un amico che sia a un terapeuta che sia anche un dio salvifico no che rappresenta comunque appunto un la salvezza non la possibilità della redenzione ed è naturale che resista perché ripeto il suo compito è scoprire l'autonomia cioè ricostruire un paradiso in modo però orizzontale non verticale orizzontale nel senso in modo interdipendente interdipendente e autonomo ma in correlazione agli uni con gli altri ed è un passo importante per l'orfano in realtà chiedere aiuto perché è attraverso questa richiesta di aiuto che l'orfano è come se urlasse al mondo ok ok ho subito questa ferita no ho subito questa perdita ma non mi lascio schiacciare reagisco e chiedo inizialmente aiuto perché questa onda che mi ha travolto è troppo forte perché ci riesco da solo aiuto che poi ovviamente paradossalmente è finalizzato al sviluppare al far crescere al contattare il dono l'elisir di questo archetipo che è l'autonomia cioè che è effettivamente la capacità di risolversi i guai da soli però non senza e non prima capite aver percorso un sentiero di accompagnamento con qualcuno diceremo quando sono nato mia madre non ha voluto vedere non ti ha voluto vedere immagino perché ero brutto ora la mia evoluzione è sempre un cambiamento stando tutto ciò ho fatto sempre un cammino lento ma non mi lamento perché la conoscenza dei tanti argomenti dall'età di nove anni a caso non mi hanno insegnato niente nessuno piuttosto nella crescita mi hanno sempre da parte forse messo da parte perché tutto quello che dicevo volevo e proponevo erano tutte stupidaggini mi sono sempre sentito forte per affrontare qualsiasi cosa ma mia davanti che avessi davanti e continuo a studiare studiare cercare di stare il meglio possibile ok grazie a te grazie a te perché hai descritto l'archetipo ed è scritto la ferita dell'archetipo questo comunque la dice lunga nel senso tu sei assolutamente corazzato perché l'archetipo dunque l'orfano sano fa quello è proprio giusto l'orfano sano fa proprio quello cioè elabora quello che hai appena scritto che c'hai che c'è scritto di cui ti ringrazio cioè il fatto di non mollare lo stavo appena dicendo il rischio il rischio dell'orfano è di sentirsi travolto e quindi di bloccarsi di chiudersi di chiudersi atteggiamento di chiusura che poi è quello che ci crea i sentimenti di cinismo no e di pessimismo cosmici ok quindi sono tutti cattivi vivono un mondo stile e questa roba qua ci paralizza ovvio ecco l'orfano sano che tu hai descritto mi piace proprio risottolineare e ricalcare no il fatto che è una forma assolutamente luminosa la tua è quella che fa tesoro dell'esperienza vissuta che nel tuo caso ha molto a che fare con il non riconoscimento no con il non riconoscimento e anche con una sorta di devalorizzazione costante ecco che comunque al quale comunque non ti sei piegato ma hai continuato a impegnarti per crescere studiare eccetera eccetera prima a sofia mi ricordo l'intervento di sofia no che dicevi sì faccio da sola anche questa è un'altra voce dell'orfano perché l'orfano tendenzialmente fa il possibile per riuscire a farcela da solo almeno no nei primi step dopo dopo di che si accorge e nella vita più o meno insomma ci ci inciampiamo tutti che non è sempre possibile e che non è sempre facile farcela da soli ma è importante a volte avere l'umiltà di chiedere aiuto di rivolgerci a qualcuno ecco e quindi ti ringrazio anzi della della testimonianza importante tu dici continuare a studiare eccetera certamente è importante lo studio la conoscenza così come è importante secondo me anche proprio un rivolgersi a qualcuno che fosse anche un amico perché ci sono anche amici capaci di non amichevolmente affettuosamente no sodalizzare con la ferita ma magari riuscire a farcela guardare da un punto di vista costruttivo questi due archetipi sono due costruttori perché senza questa opera di fine che accade ogni istante cioè la valutazione è la chiara visione ragazzi questi l'orfano e l'innocente ci portano in dono la chiara visione di cui parla tutta la la filosofia tutta la spiritualità orientali orientale e ci porta anche tutta la purezza che descrive la nostra tradizione spirituale occidentale quando parla per esempio no di cristo salvatore ho chiesto aiuto infatti perfetto e questa è la forma luminosa è la forma luminosa no perché non è che è bloccata nel fatto perché spesso un orfano è bloccato nella richiesta di aiuto perché ha paura che non servirà a niente o numero uno numero due prenderà un'altra fregatura sono queste capite i due grandi blocchi e chiaramente lo aiuta molto perché in por parlo di anche di matrimonio alchemico perché lo aiuta molto contattare l'innocente perché l'innocente ha fiducia a prescindere quindi può dare quel filo quel sorso capite di di fede all'orfano che sarà quello che lo porterà appunto a chiedere aiuto e chiedere aiuto quindi sviluppare umiltà ma anche ascolto ascolto dell'innocente questa è molto importante ecco questo vediamo se fate pure domande molto bello è questa cosa che avete fatto sia Sofia sia Remo sia Enrico anche ora che ricordo Arianna di chiedere anche cioè addirittura vabbè portando dei vostri dei vissuti personali no che è sempre impegnativo ovviamente mettere mettere in piazza mi viene da dire mettere in gioco ed esporre agli altri e dicevo quindi che questo che io nel frattempo continuo rispetto all'orfano no questa resistenza iniziale è importante naturale provarla riconoscerla e piano piano grazie all'innocente addolcirla chiedere aiuto per poi arrivare a scoprire la vera natura la natura luminosa di quella resistenza iniziale che è la capacità effettiva di essere autonomi di essere sulle proprie gambe e quindi contribuire a creare un mondo migliore con i nostri con i nostri pari ti guarderò indifferita ciao Antonella sì sì con molto piacere tanto rimarrà rimarrà disponibile questo video un'altra cosa che volevo dirvi è rispetto anche al mito no noi siamo pieni di una parola che ha molto a che fare con questi due archetipi cioè la parola sacrificio molto fraintesa no perché etimologicamente sacrificio sappiamo che vuol dire sacer facile vuol dire rendere sacro cioè io compio un atto non tanto perché mi voglio male ok io perché sono masochista ma perché per me questo atto è un gesto sacro che compio per un bene superiore cioè quindi il sacrificio è una qualche perdita la quale vado incontro cosciente comunque che tramite questo conquisterò sto servendo un bene superiore in realtà il mito occidentale che non è neanche giusto definire occidentale comunque diciamo il mito cristiano che parla del sacrificio dell'agnello di dio cioè del simbolo dell'innocenza vi ricordate no agnello di dio che salvi i peccati del mondo dona a noi la pace allora il sacrificio di questo agnello di dio portato dal mito cristiano unito al mito orientale se vi ricordate se vi ricordate che legge la perdita scusate che legge l'innocenza e la perdita dell'innocenza cioè l'orfanità sotto forma di perdita della chiara visione di perdita della capacità di vedere la realtà così com'è motivo ricordiamoci i dogon e i veda motivo che accade in conseguenza del fatto che l'anima sprofonda in una dimensione spazio temporale ecco queste due miti cristiano da un lato e orientale dall'altro il buddha no della chiara visione eccetera ci parlano insieme che l'unico sacrificio che ha senso compiere è il sacrificio delle illusioni sapete illusione cosa vuol dire vuol dire visione distorta quindi l'agnello simbolicamente anche il nostro mito cristiano no che racconta dell'agnello di dio chiesto in sacrificio ma anche addirittura nell'antico testamento no sappiamo benissimo che Yahweh i vari Elohim chiedevano sacrifici animali appunto per placare l'ira oppure no l'umore della divinità ecco non ha nulla a che fare con una certa lettura che ci è arrivata e ci è stata tramandata da una certa chiesa noir no o comunque oscurantista come come mi piace definirla ma che fare è un messaggio in realtà assolutamente lieto e felice non a caso no la buona novella in che senso la buona novella è che veramente a noi non viene chiesto di sacrificare nulla di luminoso nulla che abbia senso che ha senso conservare nulla che è quello capace di darci gioia ma di sacrificare le illusioni da questo punto di vista ogni nostra sofferenza è un'illusione questo è anche l'insegnamento dei buddha ed è l'insegnamento anche di questa lettura archetipica del mito del mito cristiano non so se mi sono questo è un concetto molto delicato però è molto importante non so se sono riuscita a passarlo come come spero ma è molto importante perché secondo come noi interpretiamo il mito possiamo vivere la nostra esistenza con delle lenti o con delle altre lenti non so se mi spiego fra l'altro il mito ci racconta da sempre la verità sotto forma appunto di immagini di metafore eccetera il punto è che non è così semplice interpretarlo quindi si entra nel gioco delle interpretazioni ecco perché poi la chiesa parla del dogma u x y oppure addirittura anche dentro la stessa chiesa romana apostolica comunque ci sono anche tanti sottogruppi che la pensano in modo diverso ovviamente e ma quando si si entra nel campo delle interpretazioni entriamo non più cioè noi scendiamo ragazzi dal campo spirituale al campo dal corpo spirituale al corpo mentale che interpreta inevitabilmente dal suo punto di vista che non può che essere parziale capite e spesso se in mano a persone che hanno interesse a mantenere il potere ovviamente l'interpretazione che ne deriverà sarà quella migliore per garantirsi il potere il mantenimento del potere ecco perché a qualcuno faceva comodo ha fatto comodo probabilmente no sottolineare più l'esistenza di satana a quella di dio più il cristo sofferente sulla croce del cristo risorto nelle chiese vediamo spesso non è un discorso il mio contro le chiese anzi anzi ci sono tantissimi sacerdoti e ce ne sono sempre più che finalmente no ripropongono un messaggio aperto e luminoso di quello che era anche il messaggio cristico originale però anche lì dove lo mettiamo l'accento sulla sofferenza che inevitabilmente sul mio essere peccatore senza spiegarmi che peccare in latino significa viaggiare significa non capite non ha un vissuto non aveva originariamente un vissuto morale moralistico ma significa viaggiare cioè discostarmi discostarmi dalla dall'unità originale in effetti dalla sorgente però io mi distacco non perché ho una colpa di stampo morale ma ci racconta il viaggio dell'eroe ci raccontano i dodici archetipi io mi distacco perché questa separazione questo stesso distacco serve per farmi splendere di più cioè per darvi un'opportunità di crescere come spirito di crescere come entità luminosa se io non avrei motivazione la mitologia ci spiega addirittura anche proprio queste favole se fate caso lo stesso cinema e io quando ho fatto la scuola di di sceneggiatura la prima cosa che c'era raccontata ragazzi non scrivete personaggi senza problemi perché un personaggio senza problemi non è interessante e soprattutto non ha la spinta all'azione non si muove se noi fossimo 90 anni della nostra vita no continuamente in stato fusionale con la mamma come eravamo nella sua pancia avremo possibilità di crescere di evolvere non credo no ed è banale per cui questo peccato cioè questa separazione che ci crea inevitabilmente tante sofferenze è funzionale per la nostra stessa crescita penso ho dovuto fare anche da genitore ai miei genitori perché avevo compreso i loro malesseri quindi capisci l'aiuto e la mia evoluzione per esempio il rapporto con mia figlia è bello pulito sereno e sempre in crescita e io ti informo caro remo che mi sa che tua figlia l'ho anche vista in una fotografia bellissima mi sembra proprio che sia tua figlia che di cui dovresti aver pubblicato non lo so un di recente delle fotografie ora non vorrei anche non mi vorrei confondere perché forse si è diplomata al conservatorio questo forse no è un'altra ragazza comunque devo aver visto tua figlia e mi fa piacere leggere che sì che è molto bello anche il discorso di fare da genitore ai genitori è frequente e non so se l'hai letto remo c'è un libro veramente è un piccolo gioiellino si chiama la il dramma del bambino dotato di alicia alice miller che è una psicanalista anche lei svizzera e è bellissimo perché parla proprio di questi bambini che in realtà intuiscono le ferite dei genitori e riescono addirittura a soddisfarle cioè ha capito a sanarle perché legati da questo inconscio patto di fedeltà in realtà poi crescendo il percorso dovrebbe aiutarci a separare quello che è nostro da quello che è dei nostri genitori per cui questa è una cosa molto importante no perché potremmo comunque fare confusione e portarci davvero da grandi grandi per non dire per sempre delle valigie con dei pesi che non sono nostri e non va bene anche questo è anche perché anche perché è importante lasciare ai nostri genitori la loro opportunità evolutiva che se noi siamo sempre lì no a credere di poter come dire adempiere al posto loro ovviamente fanno restare loro bambini in un certo senso enrico dice quindi il peccato originale è la prima nascita all'autonomia del genere sì bravo sì l'hai detto con sì sì certo nel senso capito enrico nel senso non è come una certa chiesa provato a passarci questo vizio capitale da un punto di vista morale ma è funzionale alla vita dello spirito è funzionale all'incontro con lo spirito il viaggio dell'eroe andando avanti lo racconta anche lo dimostra lo descrive anzi lo descrive parlando dell'io quello creato dall'incontro fra l'innocenza tra l'innocente e l'orfano che quando impara a scegliere è pronto a incontrare lo spirito prima di prima dell'apprendimento no della di che cosa vuol dire davvero essere autonomi e scegliere liberamente i nostri come dire no gli elementi della nostra vita interiore ed esteriori è impossibile incontrare lo spirito vero magari tante illusioni di spiriti no di incontri però lo spirito vero si cala su anime che sono pronte ad accoglierlo perché lo spirito brucia è fuoco e quindi deve esserci un'anima pronta a essere toccata da questo fuoco senza farsene devastare come un orfano no fuori controllo e anche senza come dire negare la sua la sua il suo essere la sua realtà come fa l'innocente no quando ancora non è non è evoluto katia dice problemi come elementi propositivi di miglioramento di evoluzione personale assolutamente katia rinforzi quello che ha detto enrico prima esattamente esattamente cioè i problemi sono sono veramente dell'occo delle occasioni di miglioramento e non ci scordiamo che se c'è un l'innocente guida tutto il viaggio e questa cosa è molto importante perché praticamente è come se noi no in realtà fossimo informati che siamo comunque sostenuti lungo tutta la nostra vita dalla memoria del paradiso che è un luogo dove finalmente poter vivere in autonomia in modo pacifico collaborando gli uni con gli altri su un piano che non è più solo verticale mamma bambino dio fedele no pastore pecorella ma è anche orizzontale questo è importante e l'uno non esclude l'altro però io spesso prendo no la simbologia della croce nel punto centrale cioè nel punto in cui si incontra il vertice la verticalità con l'orizzonte è il punto in cui io sono più pienamente umana possibile e grazie a questa mia più piena umanità possibile ok l'umanità scorre sulla sull'orizzonte io proprio per questo incontro il vertice cioè realizzo il mio essere divino questo lo dice questi giorni sto sentendo molto alberto maggi padre alberto maggi che so che qualcuno di voi conosce e apprezza lo so già ed è incredibile no lui parla di questo gesù profondamente umano cioè di dio che non è che vuole essere adorato e che pretende che noi saliamo su ma è di un dio che scende giù e che si fa uomo e proprio nella sua umanità scopre dio cioè proprio nell'orizzonte scopre la verticalità il gioco il gioco qui faccio un passo avanti è questo lo dice sempre non che l'attuada è corsia doppio senso di circolazione cioè c'è qualcosa di basso che tende a salire qualcosa di alto che tende a scendere c'è la nostra parte umana no più tellurica che tende a spiritualizzarsi e lo spirito che tende a materializzarsi perché ha voglia di fare esperienza ecco perché poi la fine è sempre un gioco no il famoso lila cioè il gioco cosmico di cui ci parla l'oriente barbara se chiarisse se condurci in un mondo di conoscenza superiore ti sono grata grazie katia grazie grazie in realtà vi dico che oggi ho avuto un po di contrattempi e sto totalmente proprio improvvisando cosa che faccio spesso ma oggi in modo ancora più marcato per cui sono contenta di leggere questo commento insomma di risultare chiare capite perché comunque non sono no due archetipi così da da bisfrattare perché nella nella propria costellazione archetipica può uscire come noi abbiamo siamo nati sotto un certo segno zodiacale esce il nostro il nostro archetipo di nascita quello dell'anima quello di destino e quando spesso alle persone tanto tanto piace l'innocente ma quando esce l'orfano c'è sempre un po di malcontento in realtà non è nascere anche sotto l'archetipo dell'orfano significa spesso avere una missione orizzontale cioè sociale collettiva nel senso del del miglioramento proprio della nostra società del nostro mondo quindi noi troviamo anche grandi personaggi sotto sotto l'orfano pochi minuti e mi è conquistata antonella grazie sono contenta che sei qui con noi grazie grazie antonella mi fa piacere fanno piacere questi feedback e è molto bello secondo me meditare su questi su questi proprio meditare per meditare intendo fare fare silenzio girare no l'attenzione e rivolgerla dentro noi stessi anziché come solitamente facciamo rivolgerla all'esterno e chiederci in modo sincero e schietto quanto sono disposto quanto sono disposta a fidarmi della vita con la v maiuscola in questo momento prima domanda e seconda domanda la prima è quella dell'innocente la seconda è quanto credo di quanto sento il potere nelle mie gambe quanto quanta sicurezza riesco a percepire del fatto di riuscire a sopravvivere sempre comunque altro che covid no qualunque tipo di avversità il mondo possa manifestare quanto mi sento sulle mie gambe sono un po no quindi fiducia incondizionata verso gli altri verso noi e senso di autonomia che vuol dire quindi capacità di rimanere con solidità nonostante quello che succede fuori sono i due tratti fondamentali di queste due archetipi e sono fondamentali perché senza queste fondamenta tutto il palazzo sopra rischia di essere barcollante e come dicono i dogon e i veda sono lezioni sono chiamate sacre quelle dell'innocente e dell'orfano che continuamente bussano alla nostra porta quando appunto a 60 anni ci sentiamo no colti da un amore improvviso ma magari anche no più avanti e ci chiediamo magari dopo una separazione se è il caso di lasciarci andare ok questo poi chiaramente l'innocente sarà anche supportato da tutti gli altri archetipi per esempio in questo senso mi viene in mente quello del saggio no il saggio che aumenta di molto la capacità di scelta e di no discernimento dell'innocente e dell'orfano in particolare dell'innocente fatemi vedere maria grazia ciao è sempre affascinante ascoltarti grazie mille mi fa entrare in profondità no grazie a te maria grazia mi fa mi fa molto piacere come prima diceva rianna ragazzi ci sono degli archetipi che ci bussano la porta in modo prevalente in certi momenti della nostra vita però ripeto sono tutti chiamati costantemente ad essere svegli presenti e a vibrare capite e anche questi due in modo particolare l'innocente è chiaro che è sempre è sempre coinvolto nel gioco non a caso è il primo archetipo ed è l'ultimo quando arriveremo a parlare del folle del dodicesimo vedremo che il dodicesimo non è che fa finire la festa ma si riannoda si ricongiunge all'innocente per ricominciare un nuovo viaggio cosa vuol dire un altro step un altro percorso evolutivo che sia un'altra vita che sia un altro periodo nella nostra vita capite che sia anche noi possiamo prendere il viaggio dell'eroe e i dodici archetipi come una mappa che descriva e dia una struttura a qualunque nostra esperienza che so anche prendiamo relazione d'amore dentro una relazione di amore potremmo possiamo trovare tutti e dodici gli archetipi e vedremo vedendone proprio le lezioni cioè gli elisir donati da ognuno di loro e potremmo renderci conto di come una volta superato un problema che potremmo vivere nella coppia e quindi riconquistato l'elisir del folle che è quello della gioia e della celebrazione della vita paff si riparte con una fiducia incondizionata con un innocente più ampio più saggio quindi più capace no di accogliere lo spirito una grande una misura maggiore di luce di spirito e quindi pronto per nuove sfide e nuove bellezze fino a quando chi può dirlo fino a quando probabilmente non stabiliremo una dimora fissa al centro della croce cioè dove noi saremo al tempo stesso là in questo mondo eterno fuori dal tempo e qua in questa vita che ci permette comunque esperienza allora domande molto importanti lo sto scoprendo adesso la risposta che ci diamo può veramente fare la differenza in tutta la nostra vita io scelgo di affidarmi è che bello sì io scelgo di affidarmi hai detto proprio la fiducia hai citato sì la fiducia e la fede che sono proprio i doni le qualità del dell'innocente sì ed è vero è ed è vero secondo come quando prima parlavano anche del del peccato quindi del mito cristiano di quella interpretazione secondo come noi secondo quali lenti usiamo nell'interpretare no anche il mito e beh diverso è diversa la nostra vita cioè se ci soffermiamo su un vissuto no di colpa potremmo bloccarci lì e forse qualcosa qualcuno ha anche un po di piacere ha dei benefici no nel fatto che noi ci blocchiamo in un vissuto di impotenza di disperazione di blocco perché tanto il mondo è così perché tanto sono tutti cosa perché tanto a me capitano sempre queste qui si comincia a vacillare nella nella fiducia e a qualcuno come dire può fare gioco poi in realtà il viaggio stesso ci insegna anche qui no a non fermarsi alla figura del ribelle cioè il ribelle che è dunque è uno stato come dire principiante dell'orfano ok che si ribella si ribella all'autorità dico principiante non evoluto perché è un è un archetipo è una fase evolutiva di passaggio è naturale che un orfano siccome vi ricordate ha come sacra missione sviluppare indipendenza autonomia e anche chiara visione realismo è naturale che critichi il governo critichi che proietti capito all'esterno il la propria ferita originale in realtà restare nel ribelle e quindi leggere che ne so il nostro governo come assolutamente fatto da criminali denota una fase evolutiva cioè archetipica cristallizzata lì perché perché come accennavo prima no come dicevo prima perché un un orfano che prosegue il suo cammino il suo viaggio sì ok si ribella però poi supportato e suggerito dall'innocente che gli ricorda attenzione ma questa è maia perché ci ricordiamo l'esistenza del paradiso allora piano piano riesce a sviluppare la capacità di valutare volta per volta il governo cioè capite quelle quelle situazioni quelle persone quei politici che sono in realtà puliti puri da quelli che non lo sono però non in modo assolutistico ovunque ci sia una assolutizzazione che io mi fidi di tutti e non voglia neanche sentire i complottisti o i novax perché sono tutti fuori di testa ecco questo è l'innocente che nega nega ma da lì a saltare capite dall'altra parte incolpando e proiettando sul governo tutto tutte tutte tutta l'origine delle nostre dei nostri problemi senza essere disposti a guardare un po' in quale modo e in quale proporzione noi stessi abbiamo contribuito a quello che il governo sta mettendo in scena beh ce ne vuole tra l'altro noi abbiamo contribuito ovviamente semplicemente avendo fatto sì cioè avendo permesso e avendo lasciato che un certo governo seppur tirannico che sia ora sto andando o sto parlando in generale è chiaramente che una tirannia si instaura dove c'è qualcuno che dorme non è possibile essere tiranno nei confronti di uno spirito di un gruppo di spiriti di anime sveglie perché impedirebbero prima l'ascesa capite o nel caso in cui avvenisse questa ascesa sarebbero pronti a intervenire per ristabilire un ordine e una pace ciao graziella ho visto che forse ti sei connessa ora siamo ampiamente fuori orario ragazzi non avevo visto ho dato ora uno sguardo su comunque niente se ci sono domande veloci veloci se no vi saluterei con l'appuntamento a fra due settimane fra due settimane con il terzo e il quarto archetipo guerriero e angelo perché non so se poi Gaetano mi brontola eh perché di solito ho l'orologio qui ma è vero avevo tenuto ho tenuto oggi il computer spento quindi avendolo di lato mi è sfuggito un po' l'orario ok niente allora non siamo appunto fuori fuori tempo e vi ringrazio tantissimo tutti per per la presenza per essere stati qui e anche per esservi messi in gioco vi do appuntamento fra due settimane va bene io penso che è il caso sì probabilmente di di salutarci ok sì grazie ciao a tutti qualsiasi domanda sentitevi liberi anche indifferita di farle qua sotto va bene sempre disponibile appena possibile rispondo ciao ciao